Acme è un'azienda leader nel settore del confezionamento e della palettizzazione, offre soluzioni tecniche e tecnologiche avanzate ad alte performance per linee di imbottigliamento, linee di food, linee di pet care, normalmente settori su cui operiamo trasversalmente, e competiamo con leader di mercato mondiali. Negli ultimi anni il mercato richiede soluzioni robotizzate rispetto ai macchinari tradizionali e l'incremento della domanda è stato sull'ordine del 90%. Sin da subito la scelta Staubli è ricaduta non solo sulla componentistica che evidentemente dava un valore aggiunto a livello di mercato, ma anche perché abbiamo notato la volontà da parte di Staubli di voler accontentare in tutto e per tutto le esigenze stringenti delle soluzioni robotizzate proposte da Acme. Acme in questo caso ha scelto il partner strategico Staubli per questa soluzione tecnica legata al tool changer proprio perché Staubli permette di garantire una soluzione che risulta essere ancora più sicura dello standard finora adottato da Acme. Permette non solo di garantire l'assenza di interazione uomo-macchina durante l'attività di cambio end effector, ma anche che nessuna testa di presa di prodotto di asservimento possa cadere gravitazionalmente durante l'attività di lavoro dell'isola robotizzata medesima. La collaborazione tra le due aziende in termini tecnici e soprattutto anche in termini umani ha permesso di garantire un risultato di integrazione del componente all'interno delle soluzioni robotizzate sostanzialmente di alto pregio. Grazie soprattutto all'immediata reazione che Staubli ha avuto nei confronti delle richieste dei nostri comparti tecnici dal punto di vista meccanico, dal punto di vista elettrico, elettronico, garantendo training al personale in tutte le divisioni aziendali e permettendo così di avere un transitorio di integrazione il più rapido possibile. Grazie a tutti.